Cos'è la bellezza? Innamoramento come estordimento e penso che la bellezza sia questa cosa, che sia una cosa rilassante, che ti dà un momento di stato di beatitudine e diciamo che si può sostituire con l'Exotan, diciamo la bellezza è l'Exotan, ecco, questo è la bellezza. Tito vieni qua, Tito mi è scappato il cane, scusa. Tito vieni qua.